... Michele, ripartiamo dalla sconfitta di Perugia. Gli episodi, è vero, sono stati tutti negativi per noi, però la prestazione dell'Ascoli non è stata brillantissima. Di certo non è stata la nostra miglior partita, però penso che dal punto di vista dell'esserci in campo, noi c'eravamo, infatti rivedendo la partita ha tolti quei due episodi e poi magari sul finale, quando ci siamo un po' sbilanciati per cercare di recuperare, abbiamo tenuto sempre il palino del gioco, solo che siamo stati un po' troppo sterli, diciamo che ciò che abbiamo creato non ci siamo riusciti a concretizzare. Sei d'accordo con Ardemagna e col mister che a fine partita hanno detto che abbiamo subito troppo l'aggressività del Perugia nei primi 10-15 minuti? Assolutamente sì, loro sono partiti molto forte, cosa che comunque può essere per una squadra che gioca in casa, però noi dovevamo aspettarcelo questo, anzi l'avevamo anche preparato in settimana, ma ci siamo fatti cogliere di sorpresa e potevamo gestire meglio questi primi 10 minuti perché sapevamo che una volta subite le loro sfuriate sarebbe equilibrata la partita, infatti così è stato, solo che purtroppo abbiamo preso gol. Le note positive della partita del Curi, le tue punizioni, quindi un'arma in più, nella seconda circostanza è stato bravissimo Gabriel, e i tanti tiri da fuori. Sì, ci sto lavorando, insomma, sulle punizioni, spero magari di poter regalare qualche emozione sui calci piazzati, ma al di là di quello, comunque abbiamo avuto molte occasioni e non ci sono stati bravi a sfruttarle, questo è il punto della situazione, diciamo. Ora c'è la sosta, l'amichevole con la vispesero, bisogna voltare pagina, soprattutto questo tempo sarà prezioso per amalgamare un gruppo che è fatto di giocatori praticamente tutti nuovi. Esatto, hai detto bene, questa sosta ci viene perfetta perché abbiamo due settimane per lavorare bene e continuare quello che stavamo facendo, solo che ovviamente quando cambi così tanti giocatori, il mister, eccetera, ci vuole un po' di tempo per amalgamare il tutto. Abbiamo visto quanto è cambiata la nostra prestazione rispetto alla Coppa Italia, e perciò io credo che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e arriveranno anche i risultati. Sei stato uno dei migliori al Curio, nonostante la sconfitta, come stai fisicamente e come ti stai integrando nei nuovi schemi di mister Vivarini? Anche questo ci sto lavorando, ci stiamo lavorando appunto tutti quanti perché il mister ha delle ottime idee di calcio, però vanno ben assimilate. Ho fatto, secondo me, una buona partita, ma posso fare molto meglio, come tutta la squadra. Se noi rendiamo quello che realmente possiamo dare, penso che le nostre potenzialità siano molto alte e possiamo fare bene. Ovviamente basta che qualche giocatore sia al di sotto, come siamo stati in queste ultime partite, e non rendiamo come quello che potremmo. Un campionato particolare, quello di Serie B, come al solito, in attesa di quello che verrà deciso il 7, tanti parigi, tanti risultati di sorpresa, ma comunque la classifica al momento è equilibrata, solo il Cittadella, punteggio pieno. Certo, questo conferma il fatto di quanto si è equilibrato questo campionato. Lo sappiamo, dobbiamo cercare di raccimolare punti per stare nel gruppetto medio-centrale di testa, insomma, che è il nostro obiettivo. Ovviamente, specialmente così all'inizio i punti pesano, perché vuol dire slanciarsi oppure rimanere con i piedi attaccati al suolo, diciamo, e noi vorremmo slanciarci. Ne abbiamo parlato nel giorno della tua presentazione del calore di questa piazza, lo hai visto anche alcuni. I mille che vi hanno incitato dal primo all'ultimo minuto, potete contare sempre su di loro, sia in casa che in trasferta. Assolutamente, in casa ovviamente sono molti, molti di più, ma anche in trasferta abbiamo visto quanto ci tengono a noi ed è per questo che noi cercheremo, ovviamente, come stiamo facendo ogni allenamento, di dare il massimo per poi migliorare le nostre prestazioni in partita, perché vogliamo regalare delle soddisfazioni che questa piazza, questi tifosi meritano. Grazie.